Ricorre oggi il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Il presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, da Barbiana ha detto straordinario formatore di coscienza, il nostro servizio di apertura. Per cambiare le cose non serve innamorarsi delle proprie idee, ma bisogna mettersi nelle scarpe dei ragazzi di allora e di oggi e non darsi pace finché non siano strappati da un destino già segnato. E' la lezione che per il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ci consegna Don Lorenzo Milani. Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Zuppi ha partecipato alla giornata inaugurale del centenario dalla nascita di Don Milani. L'arcivescovo di Bologna ha ricordato che quella di Don Lorenzo è stata una vita brevissima, alla quale la Chiesa in Italia e tutto il paese devono molto. Si è rivelato, ha detto, uno straordinario formatore di coscienze, perché vedeva i ragazzi come potevano essere, non solo come erano di fatto. Calenzano e Barbiana sono diventati patrimonio dell'umanità e riserva civica di democrazia per il nostro paese. Ha accompagnato le persone ad assumersi responsabilità nella vita, ha aggiunto, non accettando fossero prigionieri del consumismo, passivi e catturati dal tanto offerto per non pensare. Zuppi ha ricordato l'impegno di Don Milani perché si superasse l'atavico pericolo che la povertà e la ricchezza venissero tramandate di generazione in generazione. Un impegno è un messaggio che la Chiesa stessa ha faticato a comprendere. L'esilio di Barbiana, come lo si è chiamato, è stato da lui accolto con sguardo di fede, nonostante fosse consapevole che potesse suonare come un'incomprensione, un insulto alla sua onorabilità di uomo, di cattolico e sacerdote, come scrisse alla madre. La condanna nel 1958 di esperienze pastorali con la richiesta del ritiro dal commercio è rientrata solo nel 2014 e pienamente riconciliata dalla visita di Papa Francesco, che ha voluto onorarlo pregando sulla sua tomba. Don Lorenzo, ha detto Zuppi, ha trasformato un esilio in un esodo, ha preso per mano la Chiesa rivendicando il suo servizio agli ultimi come dimensione spirituale e servizio ecclesiale. Il futuro e la bellezza della vita sono nel suo motto, I care, che libera dallo sceno e disumano me ne frego, anche quello detto con più raffinatezza.